Ciao, sono Vera Tiuschkina, forse ti ricorderai di me come Evelina di Striscia la notizia. A proposito, lo sapete che il termine Evelina definisce una notizia importante? Infatti, per rimanere fedele al mio ruolo, oggi sono qui per farti conoscere qualcosa di molto importante. Un progetto straordinario, un'opportunità anche per te, come per le miliardi di persone che la stanno già accogliendo. Sempre se ti piace viaggiare, sicuramente sì, e sicuramente ti piace guadagnare. Comunce queste due cose, ed ecco il lavoro del futuro, del tuo futuro. E se vuoi, puoi diventare anche tu un professionista nell'universo di Daimutti. Vivendo da vicino un ambiente a 10 carati, in cui si cresce insieme grazie anche a una formazione di altissimo livello. Ho soliticato la tua curiosità? Vuoi saperne di più? Clicca e faremo il giro del mondo insieme! Grazie a tutti!